Scusate e vai e vai, sono passato bravo, incredibile si, ha messo, ha messo, ha messo, ha messo dai, non ti preoccupare e vai quando vi hanno messo, è incredibile si, è andato capirai con quello che abbiamo studiato voi si, ce l'ho fatta male, è andata si sveglia, si sveglia, si sveglia si sveglia si sveglia ah, quindi foglietti tre tre noi non dovremmo avere tutto sto potere io non dovrei avercelo vabbè, nessuno dovrebbe averlo però vado ciao 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 Dai. Dove siamo? Marco! Ma non è diverne! Che fai, animale? Marco! Marco! Smettila! Calma, ti prego. Senti, abbiamo cercato di fare la cosa più giusta. Non ci siamo riusciti. Ma questo non vuol dire che devi fare il pazzo. Ti prego, non rovinare tutto quello che ti abbiamo insegnato. Ti prego! Tutto le palle anche tu, professoressa, con tutti i tuoi bei discorsi! Marco! Marco! Dai, Marco! Tranquillo, ho ripreso tutto. Stavolta lo mandiamo in galera. Lo mandiamo. Sei bene? Sì. Ma cosa è successo? Mi deduco che è stato bocciato? Sì, infatti. Io invece sono stato promosso. Eh, lo so. Ma non avevo i voti. Eh, te lo meritavi. Sì, però non avevo i voti. Beh, vuol dire che la Zara ha contato altre cose oltre la media, no? Forse vuol dire che qualcuno ancora non ha imparato che non deve farsi i fatti miei. Cosa? Stai bene? Sì. Che è successo? Soratte. L'abbiamo immaginato. Va bene, ragazzi, tornate in classe che questo è niente in confronto a quello che vi faranno i commissari d'esame se non finite il ripasso. Adesso vi raggiungo, dai. Ma hai visto che roba? Soratte è pazzesco. Si agita un po' e potremmo chiedere lo stato di calamità naturale. Grazie al cielo lo fa soltanto per aiutare chi si è ficcato nei guai. E pensa che tu eri stato pure così furbo da mettertelo contro con la storia della Muriel. Ascolta, sulle questioni di cuore tu non puoi proprio dare lezioni. Sai che se penso a Cianella che bacia Zanotto mi sembra giusto? Era con me che la cosa era sbagliata. Insomma, lui così figo invece di io... Tu così scema? Ma che stai dicendo? Torniamo dentro, cara. Sì. Dico la verità. Mi rompe solo di soffrire così. Guarda Aldo, ricordatelo. Se vuoi fare del male a una persona il modo più sicuro per farlo è farle del bene e poi toglierle tutto quello che le hai dato. L'avevo detto però, che era un argomento e l'avevo detto. Professoressa, io sono indignata. Guardi, mi dispiace ma è un ragazzo difficile, è stato bocciato e... No, ma si figura a me che cosa importa di quello lì che se lo cacciate fate solo bene. Io parlo dei tre debiti di mia figlia. Ah, mi sembrava strano. Senta, come mai quella sulla carrozzella lì? Si chiama Laura Bellotto. Ecco appunto. Quella ha soltanto un debito e mia figlia tre? Ti dico, sa cosa se ne fa quella ragazza delle vacanze? Noi invece avevamo già prenotato a Santo Domingo. Adesso? Adesso sprenotate e andate a Celle Ligure che non ha niente da invidiare. A parte i fustacchioni dominicani. Però d'altronde lei è sposata quindi non le interessano, no? I fustacchioni. Ah, io dovrei rinunciare. Eh? E perché? Perché in questa scuola di professori montati, incoraggiate per pena la disabilità e punite per asti o l'abilità? No, ma a me non mi fregate, eh? Io non rinuncio manco per niente. Ci avrei scommesso. D'altronde rinunciare ai fustacchioni. Non si permetta. Ha capito? Scusi, lei è il vicepreside, no? Bene, io le annuncio che farò ricorso. Se lei faccia quello che vuole, qui il comportamento dei miei colleghi è ineccepibile, va bene? Permissivi, posse, santottine, incompetenti. No, ma vedremo chi la spunta. Silvia, come si può? Vieni qua. E lascia stare quella, no? Sì. Andiamo. Andiamo? Preside, che faccio? Chiamo il vetraio? Ma come si sente? Ah, no, non fa niente. No, non ci sono soldi per i vetri, spedito. E poi qualche vetro rotto in più o in meno, che differenza vuole che faccia se la scuola chiude? Non lo so, fa corrente. Ma se è estate, su. Io non so che differenza fa, però fin quando non ce la chiudono questa è una scuola. E una scuola non è un posto come tutti gli altri. Qui si impara a vivere. E quindi deve essere un posto pulito, accogliente e senza vetri rotti. Perché fin quando non ce la chiudono non è finita. Chiami il tutore di Soratte, il signor Casotti. E lo faccia venire il vetraio. Oh, adesso sì che la riconosco presti. Sì, buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Suor Clotilde. Salve. Sì. Chi desidera? Volevo parlare con Don Luigi. Mi attenda un attimo. Sì, sì, aspetto, aspetto. Isa. Isa, non ci si comporta così, eh. Cosa ho fatto? Gunardo è rientrato in servizio. E allora? Tu lo sapevi? Sei pazza. Ma si vendicherà, Isa. Si vendicherà di sicuro, visto che l'abbiamo costretto a mettersi in malattia. E invece io ho lavorato benissimo. Benissimo. E nonostante tutte le difficoltà. Tu l'hai letta la mia relazione, no? Bellissima, dimmi che non è bellissima, è bellissima. Ma è bellissima, bellissima. Proprio la leggeva e pensavo una via di mezzo tra Pasolini e Dostoievski. Eh. Sì, ma tra Pasolini e Dostoievski c'è di tutto. Eh, appunto. Dai, state calme però, eh. Ma è impossibile, è impossibile. Qui ci sono delle cose in ballo, delle... Il matrimonio. Di chi? Nostro. Ah. Auguri. Ma no, auguri. Se Gunardo ci mette nei casini, per noi è la fine. Cioè, se mi fate ripetere l'anno di prova, io giuro che qua spacco tutto. Eh, guarda che ci hanno pensato proprio prima. Non è una novità. No, tu non hai capito. Io qui dentro ci metto una bomba. Ma magari! Così la ristrutturiamo. Selvaggia è dentro? Sì. Come sta? Monotematica. Ma gliele hai detto che è colpa tua? Colpa mia. Certo, Ciarella mi ha baciato solo per farti un dispetto, non lo sai? Io ero mezzo ubriato. Senti Sergio, scusami, però parlatevi, comunicate, non parlate a me perché è inutile. Ma io le parlo anche, ma cosa le dico? È come cercare di disinnescare una mina con le unghie. Ma dille che vuoi che torni al suo posto accanto a te. Dille che tu non puoi tornare ad esserle soltanto un amico perché, cioè, tu sei innamorato di lei, no? Ce l'ho, ce l'ho. Dille che per te baciarla è come pescare dentro al barattolo della Nutella. Del ripasso con la passamaglia tu non hai bisogno, Tiburzio. Cioè, tu sei nato poeta. Sì, infatti stavo ripassando con Vivaldi. Tiburzio, anche oggi hai passato più tempo fuori che dentro. L'esame quando vuoi farlo? Tra una settimana o tra un mese? Buongiorno, prof. Non vorrei essere al tuo posto, Zanotto. Vedo che la voce sia sparsa. No. Aspetta. Che vuoi? Devi sapere una cosa. Lo so già, l'ho vista. O vuoi chiamare l'aria e me la fai rivedere? No, dai, non fare così. Vuoi anche dirmi come devo fare? No, no, non voglio dirti questo. Voglio dirti che vorrei che tu tornassi al tuo posto. Questo si era capito. Mi ci hai rimesso bene al mio posto. No, è che per me non puoi essere un'amica. Nemmeno io voglio esserti amica se per questo. Per me tu puoi finire in un lago pieno di piragna, inseguito da un branco di tigri su una tollo radioattivo. Un attimo. Voglio dirti che per me ogni volta baciarti è come pescare nel barattolo della Nutella. Vuoi dirmi che sono grassa? Professore, come sta? Sono contenta di vedere... No, 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 piano, eh. Mi hai già fregato una volta o non mi freghi piano? No. Puoi portare il caffè anche a noi? Grazie. La fai? Quanto pesa. Un po' a posto. Ciao. Ciao. Mi passi la relazione, grazie. Ecco il caffè che avete chiesto. Grazie. Io non avevo chiesto il caffè. Eh, sono stato io. E dove vai, scusa? Basta pure. Cominciamo. Tu non lo prendi? Eh? No, no. Un po' del mio? No. Però ti fa schifo, non è neanche toccato. Allora, va bene. Cominciamo. Dunque, questa relazione mi è parsa molto buona. Hai fatto un buon lavoro del Bosco. Per cui per me va bene. Io l'ho trovata un po' contorta. Perché non ce la facciamo riassumere? Del Bosco. Forse potresti parlarci del corso di formazione di Forlì. Sì, il corso di Forlì per me è stato decisivo. Lì ho proprio messo le basi per l'insegnamento. Insomma, quello che io credo poi che sia la pedagogia e tutto quello che è il rapporto con i ragazzi. Sai perché i corsi di formazione danno molto? Perché si va in vacanza a cazzeggiare con i colleghi. Soprattutto con le colleghe. Quando sono carine, vero? Beh, però non è che stiamo dimostrando tanta disponibilità, eh. Io? Sì, tu. Bravo. Cosa vogliamo fare? Non so che vogliamo fare. Vogliamo parlarci fuori dei denti? Sì. Allora. La tua relazione non mi è piaciuta. È superficiale. Venti tempo fa avrei detto ma chi se ne frega. Assicuriamo uno stipendio a questo ragazzo che si possa pagare la rate del mutuo della macchina. Invece no. I miei colleghi mi hanno aperto gli occhi. Mi hanno fatto capire che in 32 anni ho insegnato senza saper far bene il mio lavoro. e questo non va bene. Quindi, cari colleghi, propongo che il professor Del Bosco ripeta l'anno di cosa. Ma cosa dici? Ma... Ma perché? Perché? Te l'ho detto perché sei contorto. Dici delle banalità sui corsi di formazione. Io sono un insegnante serio. Ma sì, tu Del Bosco sei un insegnante serio. Che non si merita il nostro disprezzo. Vedi Passamaglia, tu confondi la sincerità con disprezzo. Però c'è del vero quello che dici. Perché in effetti quelli come il professor Del Bosco che pretendono di sapere insegnare dopo un corso di formazione io un po' li disprezzano. Sì. Bravo Gunardo. Quanto puoi andare avanti così? Un'ora? Due? Vogliamo fare tre così ti sfoghi? Eh? Però poi quando hai finito di piantare grane noi voteremo e il professor Del Bosco passerà l'anno di prova. Va bene allora. E viva il professor Del Bosco che ha fatto il corso di formazione al Forlì e ora puoi insegnare che è meglio di me. Va bene così? Certo. Bene. Che la festa comincia allora. Viva la scuola di merda. Evviva. Forza. Venite tutti a festeggiare il nuovo fenomeno. Professor Del Bosco. Forza dai. Venite, venite, venite. Auguri. Evviva, viva. Non permesso. Benvenuto Del Bosco. Auguri, auguri. Bravo, bravo. Largo ai giovani. Complimenti veramente. Bravo. Benvenuto nella nostra grande famiglia. Sai? Tanto uno stronzo più, nemmeno. La fai finita, Gunardo. Ma come ti permetti? Mi permetto, caro mio, mi permetto. Tanto me ne vado. Si chiama collocazione fuori ruolo. Collocazione fuori ruolo? Sì. Mentre voi ve ne resterete inchiodati qui a insegnare questi delinquenti, me ne andrò a dirigere un bel ufficietto al provveditorato, con tanto di aria condizionata. Allora l'hanno premiato. No, non l'hanno premiato. È stato punito. E non andrà certo a dirigere un ufficio, ma a timbrare carte. E se vogliamo dirla tutta, non è il professor Gunardo che se ne va, ma siamo noi che lo cacciamo. Anzi, da dieci minuti non è neanche più professore, quindi può anche togliere il disturbo. Certo, sì. Me ne vado. L'ho messo. Ah, Gunardo. Per quanto riguarda il suo ufficio con l'aria condizionata, farò in modo che non ci sia. Mi comprerò un ventaglio, sì. Beh. Vai! Grazie a te. Bravo, bravo. È arrivato il signor Casotti. Ah, grazie. Avanti. Mi hai fatto chiamare, prese. Sì, professoressa, si accomodi. Lei conosce già il signor Casotti, vero? Sì. Buongiorno. Ecco, mi stava assicurando che pagherà senz'altro i danni causati da sorate, anche se con qualche sacrificio, vero? Però è molto preoccupato per Marco. Se vuole provo a parlarci io. È con lei che ce l'ha. Ah, è quello che temevo. Professoressa, lei lo ha illuso. Gli ha fatto credere che stava facendo dei progressi, invece... Guardi che è la verità. E invece? Doveva fare come gli altri, che stavano cercando di fargli capire che la bocciatura era il giusto prezzo da pagare per il suo non studiare, per il suo essere indisciplinato, asociale. Scusi, ma questo lo pensa lei o suo nipote? Tutti e due. Quindi secondo lei non avrei dovuto fare nulla? Non ho detto questo, ma le cose fatte a metà non servono a niente. Le cose fatte a metà servono solo ad accentuare lo squilibrio. Quelli come lei alla fine fanno più male che bene. Giuro che se vinco questo concorso io qua dentro non ci metto più piede. Mai più! Michele! Michele! Michele, svegliati! Michele! Michele! Va bene allora, dormi pure, io vado. A proposito della tesina... La tesina è una stronzata, è solo un modo per perdere tempo all'esame. Lo sappiamo noi e lo sanno anche gli esaminatori. Appunto, dicevo perciò che forse è meglio se per la tesina ci diamo un tempo uguale per tutti. Sì, magari possiamo chiedere alla passamaglia. Il tempo lo decidono gli esaminatori, di certo non gli interrogati. Anche se si tratta di geni assoluti come te. La mia era solo una proposta per migliorare. Era una proposta del cazzo. Eh, però forse è meglio se ci vai piano con le parole. E forse è meglio che tu ci vai piano con i fatti. Ragazzi, basta! Le questioni tra di voi vedetevele fuori. Qui dobbiamo pensare all'esame. Ma è quello che sto facendo? Ma insomma... Buongiorno. Buongiorno. Ragazzi, che faccio? Sembrate la pubblicità di un ansiolitico. Tra due ore si insedia la commissione del nostro esame di maturità. E beh, allora? E allora, prof, metta che va male. Se va male, pazienza! Cioè, voi vi comportate come se l'esame andasse a giudicare la persona che siete, ma non è così. Invece no. Ma no! La posta in gioco è molto più bassa. Sono tre scritti e un orale. Tra l'altro fatti nel casino più totale. Su questo ci può contare. Levatevi sta faccia da schifo, però, perché non vi si può guardare. Che succede? Scusi. L'aria da schifo è colpa sua. Venite, vi presento i professori. Eccoli. Ecco. Prego. Professoressa Passamaglia e professori Imbriani. De Luise, Cardi, del Bosco. Buongiorno. 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 Imbriani. E Luise Cardi. Buongiorno. De Luise. Buongiorno. E poi, ultimo, ma non ultimo, il professor Bologna, che è il presidente. Abbiamo bisogno, numero uno, lucchetti resistenti per chiudere gli armadietti. Sì, ma già ci sono questi. Nuovi, a evitare qualsiasi effetto sospetto retrodatato. Numero due, c'era lacca. Numero tre, sigilli per le porte. Ma siamo in commissione a Guantanamo quest'anno. Sì, completamente dedicato agli esami. I corsi di recupero e i relativi esami per gli alunni con debito li dovete tenere di sopra. Sì, ma ci piove di sopra, sa. Siamo quasi a luglio, preside. E poi un po' d'acqua tonifica. È vero. Va bene, allora io vi lascio lavorare. Buongiorno, preside. Buongiorno. Buongiorno. E ora passiamo al calendario. Numero uno, prova scritta di italiano domani. Numero due, prova scritta di matematica il giorno successivo. Numero tre, terza prova sulle altre materie. E tra cinque giorni... Beh, lo sappiamo. e lo spero bene. Scusi. Scusate. Cosa vuoi? Sono mesi che non ti fai sentire. Isa, ti sembra questo il modo di cominciare una conversazione? Con te sì. Pensavo che dopo tanto tempo un po' di rabbia ti fosse passata. Infatti la rabbia mi è passata da mesi. Mi torna quando ti sento. Cosa vuoi? Ma è proprio per questo che ti chiamo, perché non ci sentiamo da tanto tempo. E anche per Michele non mi sembra giusto, no? E poi ti ho visto su internet e allora... Su internet? Ma che dici? Eh, ma come, non lo sai? Ah, ti mando il link, dai. E senti, se poi... Più che altro pensavo che questa situazione vada risolta una volta per tutte. Sì, perché... Qua io e Martina abbiamo un progetto a lungo termine, diciamo, e questo... Mi vuole un po' di coscienza, signora Rosuggi. E questo penso convenga a tutti, no? Appena io acquisisco una quota maggioritaria dello studio, un studio grosso, insomma, un po' di soldi ve li posso girare in forma di alimenti. Mi segui? Dei tuoi soldi ho imparato a fare a meno, così non mi convinci. Purtroppo ho imparato anche a fare a meno di te, ci ho messo molto meno tempo di quanto immaginassi. Per cui se vuoi la separazione, ma sei così pigliacco da non avere il coraggio di chiedermela, non ti preoccupare, firmo tutto quello che vuoi. Riccardo? Sì, Isa, sei una gran donna. Riccardo, la signora Rosuggi? Sì, la signora Rosuggi, arrivo subito. Ti devo salutare, Isa, voglio scappare. Ciao, ciao. Ciao, grazie, ciao. Non mi sembra il tipo di studio dove lasciamo le pazienti a buca aperta ad aspettare sulle poltrone, no? Facciamo anestesia, no? Ho capito, ma pensavo sapesse mio padre. Ci stai male? No. Anzi, mi sento più leggera. Beh, meglio così. Era venuto a vedere che fosse tutto a posto. Enzo, non ce l'ho con te. E anche un po'? Un pochino, sì. Beh, ci credo, con tutti i casini che ti ho combinato. Ma magari sarebbero successivi ugualmente. Mi stai dicendo che avresti comunque fatto finta di essere la moglie di qualcuno? No. Come va con Michele? Al solito. Stamattina quando sono uscita faceva finta di dormire, ma era sveglio. Secondo me gliene fai passare più di quante dovresti perché ti senti in colpa con lui. Non sei tu che gli hai tolto qualcosa. Non puoi compensare quello di cui l'ha privato il padre. Sai cosa ho capito in questi mesi? Che affari filosofi sono tutti capaci. Poi però la vita vera te la devi risolvere da sola. Tieni a vada Savonarola, vengo subito. Scusa Vittoria, uso un attimo internet. Abbiamo cercato di fare la cosa giusta, non ci siamo riusciti. Ma questo non vuol dire che devi fare pazzo. Allora non hai imparato niente. Hai rotto le palle anche tu con tutti i tuoi pezzi, come si? Ci mancava solo questo. Hai di nuovo dimenticato le chiavi? Ciao Michele, posso chiederti di entrare un attimo? Vieni con me. Ma che fai? Siti qua. Ascoltami bene Michele. Primo, con tua madre non è successo niente di niente. Quella foto è stata scattata da Broccoletti, mentre tua mamma evitava che io cadessi col culo per terra. Secondo, con Zara ci ho parlato io e tua madre non ne sa niente. E in ogni caso non gli ho certo chiesto una raccomandazione perché non lo farei mai io e non lo farebbe mai neanche tua madre. Terzo, ti vuoi mettere in testa che tua madre è una donna fantastica? Lo si vede da come manda avanti la baracca, con uno stipendio da fame e senza un euro da parte di tuo padre. Quarto, vuoi cambiare scuola Michele? No, benissimo. Quindi devi scegliere. Noi lavoriamo lì, quindi o ti proteggiamo o ci disinteressiamo di te. Quello che vuoi ma devi scegliere una delle due cose e ti deve andare bene. E quinto, se preferisci io mi faccio da parte. Amo tua madre, ma se tu non vuoi, ad avvicinarmi a lei non ci provo più. Anzi, mi tiro indietro fin da ora, fino a quando tu non mi dirai di tornare. A partire da adesso. Se qualcuno ha un libro diverso dal dizionario d'italiano, lo lasci sulla scrivania, altrimenti il suo compito verrà annullato. Se qualcuno possiede foglietti, tracce da internet, qualsiasi cosa di illecito, lo tiri fuori ora e lo depositi sulla scrivania, altrimenti è annullato. Se qualcuno ha in tasca il telefonino, anche spento, lo depositi sulla scrivania, altrimenti il suo compito verrà annullato. Dovessor Vivaldi? Sì. Le vuole fare lei le fotocopie? Certo. Enzo, se vuoi ti do una mano. Come vuoi. Tipo, io non ci capisco niente. E infatti sono tracce difficili. Ma qui si mette male, ragazzi. Dobbiamo collaborare. Il genio chiede aiuto alla secchiona, così poi passi tutto in aria. Scordatelo, ognuno per sé. Ma chi ti ha chiesto niente? Ognuno per sé. Professoressa, mi scusi. Sono tematiche un po' vaste. Cioè, si può dire tutto e niente. Sì, in effetti le tracce sono un po' complesse. Però, secondo me, se state tranquilli e riflettete bene, poi trovate facilmente il bandolo della matassa. Professoressa, la prego di non dare consigli. E voi o state zitti, o ritiro subito a tutti? Sì. Ciao. Se qualcuno deve andare in bagno... Che ci fai qui? Questo è il piano degli esami. E poi i corsi di recupero non cominciano la settimana prossima. Ciao, sono, ma non ce la faccio a studiare da solo. Hai visto qualcuno di terza B? C'è tua madre in giro? È venuta a fare un'altra piazzata a Laura? Terza B? Se ci sono, sono su, no? Vai, fila, dai! A presto! Ha vissuto! C'è vent! Ah, dì? Guardate qui. Guardate qui qui themselves. Guardate qui te 87 euro di ebbari a dovarsiarle da piazzarcal-e sal. Vieni, di qua. Ragazzi, panini! Panini? E lei chiede? Servizio ristoro, carboidrati per il corpo e zucchero per il cervello. Potrebbero contenere foglietti. Dovrò aprirli. Vuole anche assaggiarli tutti. Ragazzo, li appoggi sulla mia cattedra? Certamente. Ma cosa fa? Controlla anche i panini. Ma è questa relativa che non so come entrare lui. È più facile, c'è il congiuntivo. Scusatemi, devo andare in segreteria, scusate. Silvia! Sì? Vieni dentro, dai. Ti volevo chiamare, che forse tu lo sai, di inglese, il capitolo 7 lo dobbiamo fare. Tu l'hai segnato? Silvia, ma io non ce l'ho altro di debiti inglese. No? Poi ce l'avete inglese? No, non abbiamo debiti. Vabbè, lo ripasso lo stesso che non si sa mai. Posso mettermi lì? Figurati. Dimmi quali sono gli argomenti. Questo. Eccomi. Prego. E la collega Mitolò è venuta a dare il cambio per la sorveglianza. Sì, tra cinque minuti, grazie. Vieni, vieni, vieni. Ma che è un gulag, qui? Molto peggio. Pensa che si è messo a controllare anche il ripieno nei panini. Con le dita. Infatti quelli all'insalata di pollo sono rimasti invenduti. Però dobbiamo tenercelo buono per il bene dei ragazzi. Beh, allora noi andiamo. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao, ci vediamo domani. Ciao. Come stai? Non so. Non è che posso sapere tutto. Comunque, hai visto, Zara? Si è comportata correttamente alla fine con Michele, no? Sì, peccato che lui pensi che io l'abbia raccomandato. Beh, un debito sarebbe stato ingiusto. Ah beh, senza dubbio. E comunque l'avresti fatto per il suo bene. Sì, ma non l'ho fatto. Tu no. Ma Vivaldi sì. Ha parlato sia con Zara che con Lobascio. Enzo. Ha parlato con Zara e con Lobascio. Ma dai, che dici, su. Ma come, non l'hai notato, Lobascio? Quando ti incontra non cammina a striscia. Ciao, Ilaria. Io vado. Ciao. Divulzio, com'è andata? Male. Bene. Tutto bene. Ciao, ragazzi. Ci vediamo domani. Spero già. Ho da fare. Ciao. Ciao. Si vede con uno. E con chi? Troppo grossa, ve lo deve dire lei. Ma lo conosciamo? Aspetta, dove vai? Ho conosciuto un ragazzo. Simpatico. Ciao. E tu che fai quest'estate? Boh, non lo so. In verità sono da sola. I miei sono già a Santo Domingo e io ci posso andare solamente se sono promossa. Io senza i miei stare è una favola. Ma va, ma cosa dici? Li adoro, però non li sopporto più. Io così ci sono nata. Lo sai, ho una lesione congenita alla spina dorsale. È una cosa rara, solo che loro non sono mai riusciti ad accettarlo. Pensa che ancora adesso se in televisione danno lo sport cambiano canale. Allora un giorno li ho chiamati, li ho fatti sedere e gli ho detto vi devo spiegare una cosa. A voi quanto vi importa di non riuscire a volare? Ecco, non vi importa. E lo stesso vale per me per camminare. Cioè, voi mi guardate e vi chiedete come stareste se non poteste più camminare. Gli ho detto. Ma io non l'ho mai fatto. Per me camminare è come per voi volare. Non è che mi dispiace, non è che mi manca. Non ne pensi veramente così? Ovviamente no. Però loro un po' ci hanno creduto e adesso stanno meglio. Ma questa era per dirti, beata a te che te ne puoi stare un po' da sola. A me non succede mai. Io ho sempre qualcuno attorno che mi aiuta. Sempre. E la conseguenza peggiore è del fatto di non camminare. Sai una cosa? Fino a un po' di tempo fa ho sempre pensato che mia mamma fosse la regina del mondo, no? Adesso so solo che certe volte mi imbarazza sapere che mia mamma è lei. E quindi scusami per quello che ha detto l'altro giorno. Non me ne frega niente dell'altro giorno, davvero. E soratte? Mi sta passando. Credo. Selvaggia! Aspetta! Che vuoi? A te come andate? E a te che ti frega? Ti frega che in classe c'è un'area da schifo. Poi proprio durante l'esame di maturità che invece dovremmo stare tutti uniti. E quest'area da schifo ce l'ha portata a Babbo Natale che di solito a giugno è sempre molto nervoso. Va bene, se ci tieni ti dico che è stata tutta colpa mia. Ho fatto una cazzata. Però chiunque avrebbe capito che era una cazzata. Zanotto non c'entra niente. Erano fatti miei e c'è capitato lui. Soltanto che tu sei troppo fragile e complessata per perdonare. E stai buttando via una cosa importante perché uno come Zanotto non ricapita. Io non ce la faccio a digerirla. Proprio non ci riesco. Senti, Selvaggia, io di insicurezza ne so molto più di te. Tu e da quando vi siete messi insieme che aspettavi in ansia che Zanotto ti tradisse. Anzi, quando hai visto il bacio ti devi essere sentita sollevata. Ma sei scemo? Ma come ti permetti? Sarò scema ma due o tre cose le ho capite perfino io. Per esempio ho capito che tu non lo hai lasciato perché Sergio mi ha dato un bacio. Voi vi siete lasciati perché tu ti senti brutto. Qui il candidato usa il punto e virgola a sproposito. Il punto e virgola è molto importante perché è una strada strettissima tra la virgola e il punto. Ma precisa e necessaria. Mi segue? Sì, certo. Scusi un attimo. E il compito di Tiburzio com'è? Ottimo, Tiburzio è un fenomeno in matematica, lo sai. E la gallina com'è? È democratica. Almeno lei non mi tiene a distanza come un appestato. Questo si era capito. Scusa, professoressa Passamaglia qualcuno la desidera al cancello. Cancello? È la professoressa Passamaglia? Passamaglia. Eh sì, scusi. Si è vista in queste foto? Sì, infatti non capisco come mai... Giorgio, è lei, vieni. Le faccio solo qualche domanda. Vi avevo detto, sorprontiare, la scuola è bella. Ci vengono a fare anche le risprese per l'intera TV. Guardate. C'è anche la scritta al liceo Caravaggio per chi magari si dovesse confondere. Andrea, la professoressa è esclusa, ma poi dall'altra parte c'è la palestra. La bellissima palestra dove possiamo allenarci tutti i giorni. Mi raccomando, ragazzi, eh. Pronto? Sì, dimmi. No, non sono mezzucci. No, è la soluzione disperata, scusa. Certo, disperata. Finché ho potuto non l'ho fatto, ma adesso... Per ora ho chiamato qualche prete e mi hanno iscritto un po' di ragazzi, poi si vedrà. Sì, vabbè, per i soldi ci sto pensando, è chiaro. Una soluzione la devo trovare. Mi inventerò qualcosa. Guarda, poi alla fine Dio provvederà. Cosa vuoi che ti dica? Ma non mi importa se hanno già preso la decisione. Scusa, io t'ho chiamato perché volevo sapere qualcosa. Dato che tu lavori al ministero, adesso la so, adesso la so. Ma non per questo. Ti metto in imbarazzo col dirigente? No, 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 no. Tu non hai capito che cosa sono capace di fare io. Stammi a sentire bene. Io combatterò fino a che da questo posto non mi caceranno con la forza. Hai capito bene? Pronto, monsignore, buongiorno. Senta, vorrei parlarle di un problema. Mamma, sono fracolini selvatiche che però vengono accortate. Andrei un tantino sopra le righe e rivolgersi ad un insegnante con le seguenti parole che le riporto testualmente. Mi hai rotto le palle anche tu, professoressa, con i tuoi bei discorsi. Che non abbiamo fatto abbastanza per questo ragazzo. Ah, lo difende? Ma ha sentito che le diceva non rompere. Sì, lo so, però ogni caso va preso singolarmente. Poi si tratta di un ragazzo problematico. Non possiamo giudicarlo con i cani a ogni comportamentale di un ragazzo normale. Perché? Mi mette in imbarazzo. Ma guarda che non eri così male. È la prima cosa carina che mi dici negli ultimi 15 anni. E mi sembrava che il mio bambino non mi voleva niente una cosa so mia. Ma lo vedi? Ma vedi cosa? Anche appena io accendo un minimo tu esageri. Ah! Senti, volevo dirti una cosa. Io e tuo padre ci separiamo. Mi fate bene? Non credo che le cose cambiano molto rispetto a quei suoi ultimi mesi. No, in effetti no. E niente, già che sono qui volevo dirti proprio in maniera definitiva e sincera che io con la Zara non ci ho mai parlato e che la promozione è tutto merito tuo. E già che siamo qui e chissà quando mi ricapiterà ancora volevo dirti che tra me e Vivaldi non è successo niente. Niente niente? Niente niente. Ah, beh, peccato. Come peccato? Sì, ci ho parlato. Ah! Sì, l'altro giorno. Anzi, tecnicamente è lui che ha parlato con me. Ah! Non è così male. Non sono contento. Non sono contento. Sen presidente, mi scusi, ma perché? Stiamo andando bene. Oggi cominciano gli orari, vedrà che... Troppe cose. Troppe. I compiti di matematica. Che cos'hanno che non va, scusi? Valutazioni troppo alte, professore. Troppo alte. Non so se lei e la professoressa De Luisi abbiate fatto un lavoro meticoloso. Presidente, non è corretto dare questi giudizi. E poi lei. Io? Sì, lei. Ieri sera l'ho vista in televisione. Mi scusi, ma cosa penserà la gente? Ma perché? Io difendevo solo un ragazzo. No, lei è attaccato alla nostra categoria. Senta, allora... Ma io comunque non ce l'avevo con la categoria. Ce l'avevo col gruppo di docenti che ha bocciato quel ragazzo. Tra cui ce l'ho anch'io. Ora, come faccio a fidarmi di lei? Se qualcuno viene e ci fa ricorso, lei con chi si schiera? E poi, professoressa, mi scusi, ma le pare professionale farsi dire non rompere da un alunno. Lei sbilisce la nostra professione. Senti, Svedito, ma che succede? Perché non cominci a interrogare? Ho un po' di pazienza, eh, Tiburzio? Ho capito, però, se non si danno una mossa, eh? Io sono anche l'ultimo. Quando mi toccherà? A Ferragosto. Perché c'è da fare a Ferragosto? No. Dai, che prima o poi tocca anche a te, dai, dai. Ma non si può entrare a chiedere? No! Se sono chiusi lì dentro ci sarà una ragione. Abbiamo dei diritti anche noi. In che stanno giocando a carte? Oh, senti, selvaggio, sei sempre stata polemica verso il professore e adesso all'improvviso ti metti a difenderli. Per fare un dispetto a te. Eh, appunto. Senti, selvaggio, te l'ho già detto. Falla finita. Di lui ti importa, lo sappiamo tutti. È il giorno degli esami, smettila. Oh! Che succede? Bravo, bravo, bravo! Siete scendi. Ma che succede? No, niente, professore, niente, tranquilli. Sono un po' tesi per gli esami, ne ho visti in questi anni. Comunque siamo pronti. Zanotto? Camminiamo a calupo. A calupo. Vai, Zanotto. Nel 38 vennero promulgate le leggi razziali. L'opinione pubblica sostanzialmente non reagì e nemmeno il Vaticano ha preso una posizione chiara. E secondo te fu un errore? Umanamente sì. Anche se la cosa cattiva della storia, come spiega tutta la storiografia latina, è che lo storico registra e non giudica. E la cosa buona? Le cose buone, spiega Oscar Wilde, o sono immorali o sono illegali o fanno ingrassare. Can you say it in English? Of course. Oscar Wilde usually said that good things... Questa è la vera interdisciplinarietà. E per questo motivo non potevano mancare i cambiamenti climatici nella mia tesina, che è appunto tratta del tema delle catastrofi. Percorso. Per dove? La tesina non si dice tesina, ma percorso. Ma per dove? E se non lo sa lei, signorina. Anzi, voglio proprio vedere come se la cava con le catastrofi in matematica. Me la cavo bene grazie a René Tom, matematico francese che ha classificato tutte quelle funzioni all'interno delle quali avviene un cambiamento improvviso. In uno studio detto teoria delle catastrofi, e le ha divise in undici tipi. Sette. Sette tipi. Ecco, e lasciando da parte questi aspetti che ritroviamo poi sia nel Minotauro sia nella visita della vecchia signora, poi i lavori di Duremat sono stati più volte ripresi al cinema. ma con risultati spesso non all'altezza dei suoi testi. Anche se nel film di Sean Penn il bellissimo Nicholson... Bellissimo. Questo tipo di apprezzamenti in questa sede non è consigliabile, signorina. Lo vede quello, presidente? Quello è il mio ragazzo e non lo lascerei per niente al mondo. Salvo che per quel gran pezzo di figo che è Jack Nicholson. Eh... Tiburzio, tranquillo, rilassati. Dai un bel respiro, non preoccuparti di essere emozionato, lo capiamo. Poi è bello vedere le emozioni in un alunno, no, presidente? Se questo non è in ficio all'esposizione può essere tollerabile. Allora nel 1819 Manzoni pubblicò la sua prima tragedia, il conte di Carmagnola. E accese subito un enorme dibattito. Perché? Perché i motivi sono vari ed eventuali, infatti Goethe lo difese. Sì, va bene, ma io le sto chiedendo i motivi della disputa che sono molto importanti. Sì. I motivi. Ti ricordi Tiburzio che in classe avevamo parlato delle convenzioni classiche della tragedia, di come... Professoressa, non suggerisca. Ma non sto mica suggerendo, sto dando soltanto alcune indicazioni perché lui inizia il discorso. Quindi lo aiuta, non va bene. Senza, presidente, ma lei quando non fa il presidente cosa fa? Cosa fa il custode, il secondino, il collaudatore di Lucchetti, il sigillatore con la ceralacca o l'insegnante? Ce l'ha gli allievi in classe. E non hanno mai fatto degli esami. E non ha mai palpitato con loro, non ha mai sperato che facessero bene. Allora Tiburzio, stavamo dicendo di come Manzoni aveva violato le convenzioni classiche della tragedia. Avevi detto questo, no? Sì, viola le condizioni della tragedia. Sono andato uno schifo. No, no. Sì. Tranquillo, Tibu. Scommettiamo che ce la fai. Guarda, non ti conviene. Vabbè, facciamo così. Se ce la fai mi porti fuori a cena. Perché è un fioretto? Questo Tiburzio ha fatto un disastro. Io sono per la bocciatura senza dubbio. Signor Presidente, io sono sicuro che il suo giudizio sia sereno e non sia influenzato da quel po' di nervosismo che c'è stato durante l'esame. Lei vuole insinuare che io stavo... Presidente, sto dicendo appunto il contrario. Credo che il professor Vivaldi voglia soltanto rasserenare un po' gli animi, no? Io sono più che rasserenato. Anch'io. Guardate qui. Basta osservare i voti del primo quadrimestre del ragazzo per capire che la tragedia dell'esame ha radici lontane. Sì, ma tutti possono avere un momento di difficoltà. Sentite, diciamoci la verità. Mi avete già costretto a promuovere quella ragazza, come si chiama? Ciarella. Ecco, Ciarella. Aveva voti spaventosi, non si capisce perché sia stata ammessa. Poi viene qui ed è fortunata. E visto che è fortunata la scampa, ma questo qui no. Io sono per la bocciatura, altrimenti si dirà che non abbiamo fatto un buon lavoro. Che cos'è per lei un buon lavoro? Un buon lavoro è un lavoro rigoroso. Ah, e rigore vuol dire bocciare? Sì, visto che il ragazzo ha fatto un paio di prove scadenti. Eh, ma durante l'anno ne ha fatte di brillanti, però. E poi queste non erano scadenti, erano più che dignitose. Ha preso anche otto col professor Vivaldi? Quel compito valeva cinque. Il professor Vivaldi e la professoressa De Luise erano troppo euforici durante la loro valutazione. E euforico sarà lei. Mi scusi, eh? In effetti un po' euforici eravate. Però non è questo il problema. Il problema è un atto, presidente. Ho come il sospetto che per lei la bocciatura sia sintomo di un lavoro fatto bene. Come si permette? E mi permetto sì, ma dimostra un po' più di indulgenza. Era il signor Tiburzio che doveva dimostrare qualcosa e non l'ha fatto. E adesso lei cerca di imbrogliare le carte, ma lei a me non mi imbroglia. E per fortuna qui comando io. Giusto, giusto. Il presidente è lei. Appunto. E il presidente presiede. Cioè dice che cosa fare e i commissari lo fanno. Sì, ma i commissari... Quindi lei ci dice di esaminare e valutare e noi esaminiamo e valutiamo. Noi valutiamo, non lei. Lei non può sindacare i nostri voti. Si deve limitare a verificare che tutto venga svolto secondo le regole. Giusto? Giusto. Giusto. Eppure lei ha già ficato il naso troppe volte nelle nostre valutazioni. Perciò adesso stia al suo posto. Professoressa Passamagna, prego. Allora, alzino la mano quelli che vogliono promuovere Aldo Tiburzio. È regolare? 94, 95 e 96. 96. Sì. Hai visto, preside? Che gli ho detto? Occhio e croce erano un centinaio di nuove schicchie. Bene, no? Sì, sì, bene. Eh, bisogna continuare così però. Bisogna continuare che cosa? Ho chiamato i sacerdoti di tutte le parrocchie confinanti, ho ricevuto una consistente donazione dal vescovo e devo dire che con quella posso stabilizzare la situazione economica della scuola per un bel pezzo. e poi due sabati fa sono andata a Roma, in Vaticano. Ho rivisto un vecchio amico, un prete di famiglia di un sottosegretario potente. Eh, io non pensavo che lei sarebbe arrivata a questo punto. No, le lascio immaginare quanto mi sia costato tutto questo, è spedito. Sì, sì. Chiedere raccomandazioni, favori, sfruttare le amicizie, tutte quelle faccende lì. No, no, lo so, lo so. Non è una cosa per lei questa. Quello che penso, Conti, è che... che sto facendo la cosa giusta, ecco. Io sono una preside e questa è la mia scuola. Perchè i fischetti? Ah, non si può. Sei allegro? Ma, forse sì. Beato te, io non sono mai allegra. Sono stanca, non vedo l'ora di andare in vacanza. Poi anche le vacanze mi mettono l'angoscia perché iniziano e finiscono subito e mi tocca tornare qua. Ma non come adesso che tutto sta finendo, no? Bisogna ricominciare dall'inizio. Se solo passassi quel concorso sarebbe la mia salvezza. Ma non ce la farò mai. Isa, ti ricordo che ho un amico al Ministero degli Esteri e posso sempre chiedere. Ma no, niente amici, niente Ministero. Ci sono le poste, quando avranno la buona grazia di farmi sapere saprò. Eh, vabbè. Dai, calma, che cos'è? Enzo. Ti va di venire in vacanza con me Michele? In vacanza? Insieme? Insieme. E Michele? Abbiamo la sua benedizione. Sapeva che me l'avresti chiesto. Insieme, insieme? Insieme, insieme. Per quanto tempo? Ah, lo so. Fino a quando resistiamo. Sei gelosa della stangona? No, non sono gelosa della DeLuise. E neanche perché sei diventato improvvisamente macio, perché io ti preferisco Cavaliar Servente. Non è per gratitudine per quel che hai fatto per Michele, o perché mi sento sola, o le vacanze mi danno l'angoscia. E neanche per tutti i caffè che mi hai offerto. Semplicemente perché, quando uno ha finito di fare quello che deve, passa a chiedersi quello che vuole. E io voglio andare in vacanza con te. A meno che tu non abbia già preso impegni con quella cicognona. Io impegno solo con te, Isa. Piccola mia, tesoro, com'è andato, Lola? Te lo sei tolto, questo DeLuise? No, mamma. È andata bene. Oh, mia scuola, mamma. Ciao, Lola. Ciao, Sì. Ciao. 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 Silvia! Vuoi venire con noi? No, no, grazie. Aspetto. È chi? Non lo so. Lo so io chi? Laura, dai, non ti preoccupare. Siete come la bella e la bestia, no? Ciao. 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 Ermir? Sì Marco? Preparati, facciamo una gita Dove?